Primo 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 no, non prendi sinistro no, paga il nulla no no, eh, ma no come li cavallano al mare che cereppino mi dà se sto a scopo no, passate le voci vai passate la mano vai passate la mano eh, eh eh, eh eh, eh eh, eh Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Attenzione che è tutta strada bianca, meraviglia. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.